ma dov'è la nargi? non la trovo più che cazzo fai là sopra? non si dire io 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 sempre convenienza sembra una zingara buttata la in un paesino della Puglia guardati e ve lo dico io devo metterlo il cactus sono posso provare a fare questa guarda non si permge poker c'è l'arte